signori miei signori miei e alla fine è arrivata la prima sconfitta del napoli però diciamo è un risultato agrodolce perché si si perde però come si perde dopo una partita giocata alla fine bene dal napoli in un campo comunque difficile perché sì che il liverpool non sta affrontando un gran periodo comunque a 15 punti nel girone su 18 come noi quindi la champions comunque l'ha fatta con un con un altro passo tolta la prima partita al maradona ma il liverpool resta il liverpool e anfield resta anfield quindi la partita è stata giocata bene hai rischiato anche di vincerla se non fosse stato per quel fuorigioco veramente di una spalla di osticard che si sa poteva diventare l'uomo della della champions due presenze due gol purtroppo il gol è stato annullato e poi su calcio d'ango abbiamo preso due gol complice anche diciamo delle insicurezze di merette anche una una marcatura generale non troppo attenta ma ormai la partita era finita non ci sta il calo di tensione il calo di concentrazione ci sta tutto perché alla fine il girone l'avevi vinto e questa è la cosa più importante di tutte perché anche con con la vittoria del porto il pareggio del bruges evitiamo una seconda evitiamo un una squadra come il porto che poteva essere molto molto insidiosa invece il bruges penso che sia molto più abbordabile con l'ultima col colla all'ultimo secondo di oiberg mi sembra col tottenham riusciamo anche a evitare il tottenham e passa secondo me la migliore di quel girone che line track però ovviamente dobbiamo fare attenzione che comunque una squadra che ha vinto l'europa league quattro mesi fa quindi comunque una competizione in cui eravamo anche noi in cui siamo stati eliminati ai sedicesimi certo noi abbiamo beccato il barcellona però loro comunque hanno vinto una competizione in cui eravamo anche noi e vabbè il giro nell'inter non ci interessa poi faremo probabilmente anche un video in cui parleremo delle probabili avversarie del napoli ma dovremo vedere domani perché ci sono dei gironi ancora in bilico soprattutto quello del real madrid e quello di psg benfica poi gli altri due alla fine ci toccano poco perché penso che il milan passi e quindi non poi non ci importa perché non possiamo beccare il milan nel caso il salisburgo comunque non sarebbe un cliente sarebbe un cliente scomodo però non proibitivo e il girone del sito ormai è tutto deciso quindi non c'è poco da guardare lì passa il dortmund da seconda per la prima volta ci ritroviamo di fronte a un ventaglio di squadre aspettando ovviamente il psg e il real madrid un ventaglio di squadre diciamo non proibitive tutte partite insidiose che nascondono delle trappole ma come alla fine tutte le partite vanno affrontate ovviamente con il giusto pensiero perché poi se becchiamo il brucio non voglio sentire siamo già passati voglio sentire andiamo concentrati andiamo come abbiamo affrontato tutte le partite finora e vediamo poi la champions si giocherà a febbraio di mezzo c'è un mese e mezzo di mondiale ci sarà un altro mese e mezzo di campionato di coppa italia tra gennaio e la prima metà di febbraio quindi si dovrà aspettare molto per vedere quale sarà il cammino del napoli in champions per ora il primo obiettivo stagionale è stato raggiunto ovvero il passaggio del turno è stato raggiunto anche probabilmente oltre quelle che erano le aspettative perché da terza fascia in un girone comunque complicato siamo finiti primi quindi molto molto bene parlando della partita in realtà c'è anche molto poco da dire perché due squadre che alla fine si sono studiate per il primo tempo nel secondo dopo i gol di ostigard sono aumentati un po i ritmi da ambo le parti in cui ci si sono anche un po allungate le squadre secondo me era una partita in cui potevamo dare qualcosina in più se i cambi fossero stati fatti un po in anticipo perché a centrocampo abbiamo iniziato a soffrire parecchio e poi certo appena hai fatto i cambi hai preso i due gol quindi uno potrebbe dire forse dovevi rimanere con quella squadra però secondo me invece avessi fatto zielinski ed elmas a centrocampo al posto di anghissan dombele con un dombele che comunque si vede che ancora deve entrare in fase di rodaggio e in fase di rodaggio e secondo me il vero dombele lo vedremo a gennaio dopo questa pausa per il mondiale in cui con ogni probabilità non verrà convocato con la francia e in cui spalletti potrà lavorarselo perché effettivamente il dombele non ha mai fatto un ritiro con il napole ha fatto né quello di castel di sangro né quello di di maro perché è arrivato dopo oleas verona in cui e quindi ha campionato già iniziato fare un una preparazione perché di fatto sarà una preparazione di un mese e mezzo di maro cassel di sangro è stata una preparazione di un mese tre giorni alla fine perché il ritiro mi sembra inizio il 7 luglio e la prima partita di campionato l'avevamo il 16 quindi un mese e dieci giorni più o meno sarà la pausa del mondiale noi finiremo il 14 e il 15 novembre inizieremo il 4 gennaio quindi si avrà una vera e propria preparazione un nuovo precampionato diciamo e io penso che in dombele potrà sfruttare questo per rientrare definitivamente in forma e aggiungere un'ulteriore freccia alla all'arco di questa squadra che comunque ha grandi alternative comunque dicevo un dombele non ancora un po in ombra ancora un po stanco idemanghissà che ha fatto una buonissima partita però torna comunque un infortunio e si vede che ogni tanto trottorellava e trotterellava in campo come ho detto nella partita col sassuolo e ci sta anche perché comunque ha giocato due partite in tre giorni quindi ci sta e quindi forse far entrare due mezze ali un po più fresche prima potevi soffrire meno a centrocampo perché a un certo punto è un po sofferto e potevi anche un po ripartire perché gli spazi c'erano purtroppo poi alla fine gli cambi sono stati un po ritardatari se così ritardatari cambi a partito ormai definitivamente chiusa ci stava a fare entrare magari gaetano zanoli zerbin per fargli fare esperienza perché poi quando l'anno scorso si fa male di lorenzo e zanoli deve giocare atalanta fiorentina e roma ed empoli con l'atalanta va bene con le altre partite no però perché zanoli era arrivato in quel momento a quel punto che non aveva minutaggio praticamente tu se non fai fare minutaggio a questo ragazzo e a zerbin che comunque il sostituto di quara ok che se quara dovesse mancare ci facciamo tutti gli scongiuri del caso c'è raspadori c'è elmas speriamo di no c'è c'è lo zano quindi non sarebbe la prima alternativa zerbin però comunque una è l'alternativa naturale diciamo idem zanoli per di lorenzo gaetano è uno dei pochi centrocampisti per me l'unico perché dem per me non è un giocatore che può ricoprire i compiti che ha lo vodka gaetano è l'unico che secondo me può farlo quindi in teoria i tre sostituti dei tuoi tre giocatori inamovibili non li fai mai giocare se non gli fai fare minutaggio in queste partite inutili perché dall'ottantesimo in poi era una partita finita non poi ti ritrovi che corna facendo se uno di questi tre gli viene un raffreddore e devi sostituirli con noi questi tre questi tre si ritrovano buttati a un certo punto in mezzo al campo quindi ripeto i cambi dovevano essere fatti prima con quegli uomini e che gli uomini erano giusti in realtà nei cambi nelle sostituzioni però non sono stati puntuali a quel punto facendo questi tipi di cambi dovevi far entrare i giovani secondo me questo risente sul voto di spalletti che ha preparato una partita ottima ha messo la formazione che avrei messo io praticamente io non avrei fatto giocare anche star che l'avrei preservato per bergamo però ci sta che magari lo volesse far rientrare in condizione facendo riposare zielinski mettendo un centrocampo più fisico con olivera che comunque più difensivo ha fatto un partitone su salà mettere Ostigard è stata una buona scelta perché così hai potuto poi alla fine certo hai preso due gol su calcio d'angolo ma fino a quel punto quando poi la tensione ormai era completamente sparita dalla partita non c'erano neanche più inerzie ormai quindi ci sta però fino a quel punto sulle palle inattive non hai mai sofferto anzi avevi anche segnato proprio con Ostigard politano sono d'accordo perché ti faceva più fase difensive o simen perché loro ti venivano a pressare alti e quindi gli potevi dare la pallata potevi giocare in contropiede con o simen e potevi anche lavorare molto sulla seconda palla cosa che non c'è molto riuscita in realtà perché molto spesso arrivavano prima i giocatori dell'iverpool sulle seconde palle quindi io sto anche iniziando a intravedere un po di stanchezza in questa squadra l'ho già detto col sassuolo l'ho già detto con rangers oggi lo ribadisco sono molto preoccupato per la trasferta di bergamo proprio per questo motivo perché l'atalante una squadra che la mette molto sul piano fisico quindi io penso che spalletti dovrà lavorare anche a un certo tipo di formazione con con l'atalanta mettendo qualche muscolare tipo oggi per poi andare con con i piccoletti ma poi magari ne parleremo anche in un pre partita e comunque passiamo passiamo ai voti quindi detto questo oltre alla stanchezza comunque spalletti si poi approfondirò dopo anche se ormai ho già detto tutto ma ret 5 e mezzo sul primo gol per me è un errore è un errore anche abbastanza grave secondo me il secondo ha fatto una buona parata però comunque lasci lì il pallone lì è più complice poi simeone che non va a seguire l'uomo e anche una marcatura in generale la marcatura zona sui calci d'angolo secondo me molto fallace perché alla fine deve essere una marcatura uomo con due giocatori staccati che marcano primo palo e secondo palo poi tutti gli altri che lì sono le due zone che devi tenere per dire osimen sul primo palo anghissà sul secondo e poi tutti gli altri giocatori scusate devono essere tenuti a uomo dai nostri difensori dai nostri difendenti anzi come direbbe capuano quindi comunque meret 5 e mezzo per quell'errore però non mi sento di condannarlo troppo perché poi aveva giocato un'ottima partita ha iniziato anche a giocare molto bene con i piedi quindi ottimo olivera è il migliore in campo 7 e mezzo salala annullato che ha segnato ma salala poi tranne i primi dieci minuti in cui l'ha un po sofferto poi gli ha preso le contromisure olivera e salala non ha poi fatto praticamente più nulla e parliamo di mohamed salala uno dei giocatori più forti al mondo per quanto sia un po in fase calante rispetto al suo prime ma comunque momo salala e sappiamo che è molto forte tant'è che anche oggi ha segnato poi certo ha segnato un gol che forse facevo pure io però kim 7 avrebbe preso qualcosina in più ma effettivamente van dek che arriva in terzo tempo lui teneva la zona e non l'uomo però comunque salta su di lui quindi il voto ne risente però poi kim ha fatto un partitone fatto un po di chiusure molto molto buone stesso voto prende ostigard perché anche lui avrebbe preso qualcosina in più perché a un certo punto poi fa una chiusura strepitosa sul nunez in cui salva un gol però in fase di impostazione troppi lanci un po come direbbe cassano alla carlona sempre palle fuori abbiamo sprecato tante ripartenze con ostigard che alzava lo sguardo che comunque non c'era molto movimento dei centrocampisti su questo abbiamo un po sofferto però ostigard alzava la testa rendeva la palla e la sparava e puntualmente finiva nella rimessa laterale oppure tra i giocatori nei piedi dei giocatori e l'iperpool quindi pecca un po da questo punto di vista di lorenzo 7 ha fatto una gran partita in tutte e due le fasi è il di lorenzo solito quindi il di lorenzo che voglio vedere che ultimamente sto vedendo un po a tratti il centrocampo un dombele 6 per i motivi che ho già detto lo botca 7 maestro si prende i falli ormai dico sempre le stesse cose lo botca maestro si prende i falli sa gestire palla detta bene i tempi riesce anche a recuperare palla perché un grandissimo in cui un grandissimo incontrista anche se non sembra da data la statura però che puoi commentare più di lo botca chissà 7 parte un po secondo me come ho detto cincischiando in mezzo al campo poi però cresce e la prova della sua partita diventa di livello di livello da anghissà e quindi prende 7 quara 6 non mi è piaciuto poi se questa partita la fa politano lozano giocatori da cui si mi aspetto ma non troppo prendono magari anche se è mezzo io da quara mi aspetto molto perché quara per me in potenza è uno dei tre giocatori più forti del mondo e lo ribadisco e non penso di esagerare in potenza ovviamente non al momento momento neanche lontanamente ma già l'anno prossimo per me se quara continua di questo passo è in quel range non magari non nei top 3 ma può essere messo può essere messo in top 10 per dire però questi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano questo per dire che ho tanta aspettativa in quara quindi se fa una partita del genere con cui fa un tunnel subito parte subito benissimo e poi dopo scende sbaglia qualcosina un po' un po' specchiandosi e tutto il voto si abbassa a 6 politano 6 ha fatto una buona partita di sacrificio un po' lasciato solo in alcune situazioni però alla fine non mi sento di senza infame senza l'odio simen 6 più perché la solita grinta lotta e tutto però comunque aveva vicino il suo dirimpettaio era van dyke quindi capirete voi che è uno dei centrali più forti del mondo se non il centrale più forte del mondo i subentrati tutti 6 non ho nulla da dire tranne Simeone se meno perché si perde Mugnez sul anzi se meno no perché non voglio ah vabbè ho messo l'insufficienza a Meret no perché non volevo mettere insufficienze ma a questo punto le ho già messe giustamente Meret se la merita comunque non è una bocciatura forte però comunque la sufficienza non la raggiunge secondo me peccato perché stava facendo una buona partita e spalletti 5 e mezzo per i motivi che ho detto prima partita preparata benissimo però poi la gestione dei cambi poteva essere fatta secondo me meglio sia negli uomini per diciamo che per le tempistiche fatte dovevano essere altri uomini secondo me per gli uomini che sono entrati dovevano essere altre tempistiche comunque siamo primi vedremo domani come andrà speriamo bene e forza Napoli sempre occhio occhio a sabato perché ci giochiamo un gran pezzo di campionato sabato